In Italia circa 877.000 persone soffrono di disturbi dell'udito, più o meno gravi, e 92.000 sono sordi prelinguali, cioè sordomuti. La lingua dei segni è uno strumento di comunicazione utilizzata dalle persone affette da sordità, diffusa in tutto il mondo con caratteristiche diverse a seconda della nazionalità dei segnanti. Con la mozione del Vice Presidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche sono stati garantiti pieni diritti alle persone sorde, con l'approvazione all'unanimità del Consiglio regionale. Si garantisce piena accessibilità comunicativa delle persone sorde alla vita collettiva, al riconoscimento e l'utilizzo della lingua italiana dei segni, denominata dall'acronimo LIS, nelle sedute dell'Assemblea Legislativa e nelle iniziative pubbliche di maggiore rilievo della Regione Marche. Noi combattiamo da sempre per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per le persone meno fortunate le barriere architettoniche sono visibili ma non sono le sole, ci sono anche le barriere sensoriali di coloro che non sono udenti e quindi hanno le disabilità sensoriali. La mozione prevede per il Consiglio regionale, per le sedute del Consiglio regionale, di dotarsi del servizio di interpretariato con la lingua dei segni e prevede l'impegno a tutti i servizi della Regione Marche di dotarsi della lingua dei segni, quindi di servizio di interpretariato per i sordi, in tutte quelle iniziative pubbliche di maggior rilievo. Con la mozione presentata da Minardi si impegna il Presidente Ceriscioli e la Giunta regionale a porre ogni azione utile con l'obiettivo di promuovere il diritto all'accesso delle persone sorde e delle loro famiglie alla comunicazione, all'informazione e alla cultura, ai servizi in condizioni di parità con gli altri cittadini.